Poi ho sentito questa cosa devastante che Acerbo ci manda i regali e allora incomincio a preoccuparmi perché di solito i regali dei leader politici sono sempre pericolosi, però conosco Maurizio da un po' di anni, mi sembra un ragazzo serio, spero che sia un regalo, no, con la sorpresa. Ma Maurizio non è un leader. Ah, l'ha anche scritto, scusate. L'ha anche scritto, se l'ha anche autoscritto. Non so se lui ci si ascolta. No, dicevo, voglio intervenire perché ho sentito interventi ottimi, interventi belli, ho sentito Roberto che faceva la storia del PC, io non voglio fare storia perché 30 anni fa, se no diciamo, sembriamo un po' troppo anzianotti io Franco e poi Roberto che si è aggiunto a noi con gli appelli rosso-verdi. Noi questa strada e questa pratica l'abbiamo pensato tanti anni fa, la Sentinelli ha detto una cosa molto bella che quando arriviamo al massimo dell'apice facevamo anche un giornalino che si chiamava l'insostenibile dove si parlava dell'insostenibilità e facendo questa condizione e questo gioco dei nomi e poi si dava voce al territorio. Poi ho scoperto che Transform è parte integrante ormai delle lotte territoriali, perché sento questa cosa bellissima, fa piacere per il mio amico Roberto. Cosa dire? È complicato, è complicato perché il bisogno è maledetto, il bisogno che abbiamo in questo paese, ma nel mondo, di un ambientalismo dove incomincia a mettere in discussione il modello economico, come diceva giustamente Riccardo Rivici, cominciano a mettere in discussione il ciclo delle produzioni, è un ambientalismo, ma non è l'ambientalismo, è dovuto se vogliamo fare pace con Madre Natura. Madre Natura ci manda tutti i giorni dei messaggi che sono ben precisi e ben chiari. Noi purtroppo siamo sordi, siamo stati sordi per anni, devo dire la verità, il 2001 con Genova, quando lanciamo, mi sembrava che forse avevamo sbloccato, perché nella discussione, nella critica alla globalizzazione ovviamente si toccavano questi punti che erano punti importantissimi. E purtroppo è successo quello che è successo. Oggi è una necessità, ma non solamente italiana, è una necessità proprio del pianeta, se vogliamo riappacificarci col pianeta. Il problema è complicato, è un dovere partecipare, è un dovere tentarci. In Italia, devo dire la verità, è molto più complessa, la situazione italiana è abbastanza complessa e complicata, perché in Italia abbiamo avuto sulle questioni ambientali, sulle lotte territoriali, varie truffe. Truffe dove, quando io dico truffe, io ho una mia visione personale molto brutta, perché io sono proprio... Cioè io dico Berlusconi ha fatto guai, ma che le guai che ha fatto Di Maio e gli altri amici sono peggio. Perché loro si sono innestati nel movimento, hanno illuso i territori, hanno fregato i territori, hanno fatto sognare persone. Chi sogna e poi viene fregato, è complicato poi con le persone di appacificarsi, perché quando distruggi un sogno non è una cosa bella. I territori sono sempre vivi e lotta, ma sono di uno scettivismo che non finisce mai. Noi, grazie a questa devastante politica del qualunquismo che è stata negli ultimi anni, stiamo provando e proveremo una delle sensazioni più brutte che potrebbe esserci nel nostro paese, l'astenzionismo. Come pensate che nella mia città di Napoli e Roma hanno votato il 60% delle persone, significa che ormai non c'è più la partecipazione. E questa è una grande sconfitta della democrazia, che si innestia, innesti al Parlamento di Mezzato, che quei coglioni, perdonatemi se dico coglioni, del PD hanno seguito insieme, hanno seguito a queste cinque stelle, e metti l'astenzionismo, significa che tutte le lotte che si sono fatte negli anni Ottani, quelle poche persone, Franco Russo si ricorderà in cui da DPI anche i radicali, quelle lotte che erano lotte di democrazia di pochi parlamentari che sono riusciti a mettere a accendere la questione della democrazia, dei diritti, dal divorzio al referendum nucleare, cito due cose, all'aborto. Oggi è in discussione proprio la democrazia. Abbiamo un dovere di tentare, abbiamo un dovere di starci in mezzo, di fare il possibile, ma è molto complicato. Io personalmente poi mi interesso di queste cose qui, vedo ogni giorno qualche cosa, vedo sempre che c'è una situazione, per esempio una piccola associazione che Patrizio Roberto e Franco conoscono bene, che noi abbiamo creato tanti anni fa, un'associazione ambientalista, perché quando noi negli anni 90, inizio 2000, pensammo di fare un'associazione a mettere a disposizione delle lotte territoriali, perché in Italia abbiamo anche un problema folle, i comitati non sono rappresentati, non ci hanno rappresentati già per fare un ricorso, per fare un incontro, e noi creiamo questa associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente per poter patrocinare ed essere vicino a questi comitati che giustamente fanno delle lotte. Io, grazie, ultimamente ho scoperto una cosa che guidava in tetta, l'altra volta facevamo una riunione e mi chiedo scusa se non ho partecipato, perché mi sono da allontanare, a Pisa sta succedendo dell'ingredibile. a Pisa, l'ambiamento, la Pisa nel parco di San Rossone, che è uno dei parchi più belli d'Italia, ma un parco poi particolare che c'è anche la storia, non è solamente la questione della biodiversità, stanno costruiti su 80 ettari quel parco, 8 ettari di una cittadina militare. Cioè, voglio dire, la dice tutto quello che sta succedendo sul nostro territorio. Per non essere noioso e per essere molto, e per chiudere, io, quando Franco mi ha mandato l'appello, l'ho letto, dico, Franco, noi l'abbiamo fatto 30 anni fa, figurate se io non ci sto. Pensa che sia un dovere partecipare. Io ci sto. Dobbiamo essere attenti, solamente non facci catturare della frenesia, ma fra poco saranno le lezioni da essere tranquilli, perché noi abbiamo bisogno, in questo momento qua, di ricostruire un tessuto sociale che non c'è più. È chiaro, come diceva Patrizio, ma il nostro è un progetto, ma anche politico, la politica, ma perché mette in discussione questo modello di società, questo modello di produzione, e come dicevamo noi, negli anni 90, quando alcuni di noi erano, c'era uno slogan, consumare bene e consumare meno, è tutto un progetto politico, è chiaro che questo qui ci vuole anche portare avanti fortemente. Ho paura, e lo dico e chiudo, lo dico ad Acerbo, che è l'unico politico che sta in mezzo a noi, a quanto pare, se non sbaglio, di stare attenti, di non bruciarlo, perché questo è un progetto che ci vorrà tempo, ma necessario, lo che è necessario, e non stare attenti a non farci prendere dalla foglia elettorale, come sta facendo domani il PD, come fa domani il PD, insieme a qualche amico e compagno che alcuni di noi conosce molto bene, che strumentalmente parlano di ambiente, perché hanno bisogno delle prossime elezioni. Stiamo attenti, perché questo è un progetto doveroso da portare avanti, ma lungo, perché in questo Paese è successo di tutto, in questo periodo, dovuto alla gente che non ha più fiducia all'assenteismo e alla strumentalizzazione che la politica è sporca, che hanno portato avanti i Cinque Stelle, con delle conseguenze, a mia vista, devastanti a livello... Chiudo. La compagna, l'amica, non so se si dice ancora compagno in mezzo a voi, ma a me piace il suo titolo compagno, Paola che ci ha raccontato questa esperienza scolastica, perché io sono d'accordo, le scuole sono importanti, figurati io personalmente, poi del film di Sarno, mi sono interessato anche come dirigente della regione campana, perché dobbiamo solamente stare attenti a portare un giusto messaggio nelle scuole. La scuola è dove nasce, dove da lì puoi cominciare a pensare e portare avanti della progettualità. Io personalmente lo faccio sia come associazione, ma sia come dirigente pubblico, quando mi chiamano, perché mi interesso di acquedotti, e a me fa sempre piacere. Penso che sia uno degli strumenti in mezzo, nella scuola, portare la voce e far capire ai ragazzini come funziona il ciclo della natura, perché la natura è complessa, la natura è una cosa stupenda che ha bisogno anche di essere spiegata. Io dico, faccio, e chiudo davvero, quando vado in una scuola, mi capita anche all'università, dico, ma quando avrete il rubinetto, voi avete mai pensato come arriva l'acqua nel rubinetto? Le confesso, non alle elementari, non alle medie, ma anche all'università, non te lo sanno dire. E questo significa che non riescono a capire la complessitività del sistema della natura, che è un sistema complesso, bello, stupendo, che però ha delle sue regole, che l'uomo ultimamente non è che le rispetta molto. Grazie a tutti. Grazie Ciro.